E' un allarme che ciclicamente riemerge ma che suona paradossale nell'attuale periodo di forte crisi economica. Le aziende del distretto Meccano Calzaturiero non riescono a trovare personale specializzato sufficiente alle loro esigenze, nemmeno pescando tra i neodiplomati delle scuole tecniche e professionali. Un allarme rilanciato nel corso della consegna delle borse di studio di Assoma che intitolate ad Amilcare Baccini e destinate agli allievi più meritevoli degli istituti Caramu e Leroncalli di Vigevano. Io ricevo tantissime richieste da parte di aziende del territorio di nominativi per eventuali assunzioni, addirittura prima del diploma, quindi verso il mese di aprile e maggio già mi arrivano le richieste e non le riusciamo a soddisfare tutte perché l'offerta è inferiore rispetto alla domanda. Il momento economico causa Covid non è dei migliori, tuttavia le aziende innovative stanno investendo tanto nel personale, nei giovani proprio per formarli e per destinarli a questi ambiti nuovi che sono la digitalizzazione, la sostenibilità, l'economia circolare eccetera eccetera. A Vigevano in particolare si sta cercando di far partire un istituto tecnico superiore, corso di specializzazione post diploma fortemente incentivato da governo e Unione Europea, nonché molto richiesto dalle aziende del territorio, un'iniziativa che fatica a prendere quota per carenza di iscritti. Le aziende si sono dimostrate subito interessate, infatti c'è un lungo elenco di aziende che hanno dato la disponibilità per la docenza e anche poi per le future assunzioni, purtroppo abbiamo avuto poco riscontro da parte dei ragazzi. Forse dobbiamo spiegarlo meglio, forse dobbiamo anche magari spiegare quali sono i lavori che andranno a fare perché sono lavori secondo me bellissimi, andare in giro per il mondo, confrontarsi con l'informatica, confrontarsi anche comunque con la meccanica, cioè sono lavori secondo me molto entusiasmanti. Forse dobbiamo spiegarlo meglio, però anche da parte delle famiglie soprattutto chiedo una maggiore attenzione verso questi corsi. Intanto però si cercano di incentivare gli studenti migliori, ad esempio con la consegna delle borse di studio in ricordo dello storico direttore di Assomac, Amilcare Baccini. Baccini è stato un po' il deo ex macchina di Assomac, nel senso che ha voluto la fondazione di questa associazione, l'ha portata avanti negli anni, quindi ecco il motivo di dedicare delle borse di studio a studenti di corsi inerenti un po' a quelle che sono le attività specifiche delle aziende del settore. A dispetto delle difficoltà della didattica a distanza, inoltre quest'anno gli istituti Caramo e Leroncalli hanno segnato risultati record agli esami di maturità. Abbiamo avuto 25 studenti che si sono diplomati con 100 centesimi e 6 con la Lode, per cui nonostante le difficoltà di un anno davvero travagliato, alla fine sono riusciti ad avere degli esiti eccezionali, siamo molto contenti.